Inondavano la campagna di droga attraverso una fitta rete di spaccio per un giro d'affari da centinaia di migliaia di euro, ma in undici sono stati scoperti dai carabinieri e arressati. Sono gravemente iniziati di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. Si tratta di esponenti di due sodalizi criminali distinti, ma in collaborazione l'uno con l'altro ed operanti nel comune di Acerra tra il giugno 2022 e l'aprile 2023. Nello specifico i clan si rifornivano da fornitori all'ingrosso della provincia napoletana. La droga veniva poi occultata in vari modi, tra cui anche nascosta in vani, doppi fondi e scompartimenti segreti, per essere poi rivenduta al dettaglio non solo attraverso le piazze di spaccio instaurate nel comune, sito a nord del capoluogo campano, ma anche con consegne a domicilio. È la terza ondata di arresti a partire dallo scorso luglio, operazioni che hanno fatto scattare le manette ai polsi per 40 persone.